Mi chiamo Wilmer Tassinari, sono il direttore artistico di un progetto nuovo che si chiama Sgarbo, questo progetto è mirato a creare un connubio fra l'arte pura e il mondo dell'abbigliamento della moda. Io sono un artista che dipingo questi quadri e l'idea di trasferirli su delle magliette, su dei capi d'abbigliamento hanno portato alla nascita di questo marchio che l'abbiamo chiamato Sgarbo perché è un po' la voglia di trasgressione che ognuno di noi in questo momento ha per evadere a questo mondo ingabbiato dentro tutte queste regole che ci portano a volte dentro dei percorsi di grande stress, allora abbiamo bisogno ogni tanto di avere questa sensazione di Sgarbo, più o meno il nome è nato da un'idea di questo tipo.